Chi eri nelle vite passate? Scoprilo con il dottor Brian Weiss, psichiatra psicoterapeuta, massimo esperto al mondo di regressione alle vite passate e ipnosi regressiva. Acquista il corso online Molte vite e molti maestri. Ricevi bonus esclusivi del valore di oltre 1000 euro e il certificato. Meditazioni in formato MP3 in download illimitato. Salve, sono il dottor Brian Weiss. Sono felice di parlarti del corso online avanzato. È stato creato dal meraviglioso corso avanzato di tre giorni tenuto in Italia. È una meravigliosa combinazione di regressione alle vite passate, dimostrazioni individuali sul palco, nuove meditazioni di regressione. I partecipanti hanno sperimentato meravigliose esperienze in sala e ora grazie a questo corso online puoi viverla anche tu comodamente a casa. Lo consiglio vivamente. Mi ha cambiato la vita. È meraviglioso. Sono riuscita a vedere parecchie cose. Mi ha emozionato moltissimo. Più intenso di quanto riesce ad essere nei suoi libri. È una cosa che mi porterò nel cuore. Io non tornerò più in Italia di persona. Questo corso online avanzato è ottimo. Avrai la possibilità di sperimentare le meditazioni come se fossi in sala con me al corso. Potrai ottenere grandi benefici dalle visualizzazioni e dalle nuove meditazioni. Ti consiglio di cuore di provare. a a Grazie a tutti.